Buona dena, buona dena, buona dena, buona dena. Buona dena, buona dena, buona dena. Buona dena, 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 buona den l'academia militarà? Super! Ce zici di questo? C'è? Am scappato da lui, intrando in base a l'academiei, per se lo accette. Voi ce vogliamo fare? Slavò cerului che non dovremmo pensare a Steve Trevor. Vuoi dire Steve Kriptonita? Bine, hai să-ți mă explic o dată. E simplu. Kriptonita e de pe planeta Kripton. Hai da, Iana, grăbește-te. Aproape am terminat.